ciao a tutti e buon sabato faccio questa diretta per raccontare una cosa che è accaduta questa mattina e secondo me racconta bene come funzionano alcuni metodi dei regimi dei regimi allora mi sveglio stamattina un normale sabato e scopro dal quotidiano la repubblica che a tuta pagina pare un'anticipazione dell'espresso che secondo le rivelazioni di un pentito di un clan di nomadi di latina nel 2013 quindi otto anni fa durante la campagna elettorale per le elezioni politiche io avrei dato attenzione bene 35 mila euro in una busta di carta del pane in un distributore tele in un distributore di benzina a un distributore di benzina a questi esponenti di questo clan dei nomadi per attaccare i manifesti a latina nella busta del pane al distributore 35 mila euro in contanti per attaccare i manifesti a latina otto anni fa l'avrei fatto per il tramite di un non meglio identificato autista segretario che era a bordo con me di una volkswagen nera ora ovviamente la presunta notizia si smonta facilmente io non faccio affari coi rom non do soldi in contanti non do soldi in contanti nelle buste di carta del pane non do soldi in contanti nelle buste di carta del pane al distributore di benzina e nel 2013 quando noi facevamo la campagna elettorale i soldi proprio non ce li avevamo che poi insomma vorrebbe pure da dire quanti manifesti ci avete attaccato questi 35 mila euro perché sono tanti eh a latina solo i manifesti di fratelli d'italia si sarebbero dovuti vedere allora dico di più non ho mai avuto un segretario maschio non ho mai avuto una volkswagen nera non ho mai girato su una volkswagen nera voglio dire proprio la notizia inventata questa cosa non è mai accaduta semplicemente la notizia è inventata ed è dal mio punto di vista facilmente verificabile cioè se gli inquirenti avessero voluto chiedermelo io non avrei avuto alcun problema a rispondere devo pensare che gli inquirenti non hanno considerato attendibile questa notizia che tra l'altro arriva da questo pentito un signore che io non conosco che però da quello che leggo sempre dalla stampa secondo altri pentiti non sarebbe attendibile allora devo pensare che gli inquirenti hanno considerato questa notizia infondata perché immagino che altrimenti mi avrebbero chiesto conto di questa notizia che mi infanga e francamente mi chiedo anche come sia possibile che una notizia del genere che una diciamo rivelazione del genere sia finita su repubblica senza che nessuno abbia inteso chiedermi non lo so un punto di vista un parere una versione se fosse vero o no per cui devo considerare che gli inquirenti non l'hanno appunto ritenuta particolarmente affidabile e però devo chiedere come c'è finita su repubblica atteso che in teoria stiamo parlando di notizie che sono coperte da segreto istruttorio immagino che gli inquirenti vogliano verificare che i giudici vogliano verificare andare fino in fondo alle ragioni per le quali queste notizie finiscono sul giornale per screditare la sottoscritta senza che nessuno mi abbia neanche chiesto non lo so una versione allora vedete la cosa secondo me sulla quale non si può tacere è questa non è strano che il quotidiano la repubblica decida di pubblicare a tutta pagina una notizia del genere che infanga il leader dell'unico partito di opposizione all'attuale governo italiano senza ritenere di farmi una telefonata perché in quel pezzo ci fosse almeno non lo so un mio virgolettato una mia dichiarazione perché ci fosse anche l'altra campana di questa brillante e credibile ricostruzione quali verifiche ha fatto il giornalista di repubblica quali verifiche ha chiesto il direttore di repubblica su questa rivelazione di un pentito esponente di un clan mafioso di nomadi contro giorgia meloni prima di pubblicarlo a tutta pagina e non è curioso che tutto il circuito dei media di sinistra che oggi sta rilanciando questa notizia a manetta abbia fatto la stessa scelta cioè non ascoltare che cosa avesse da dire la sottoscritta e la persona infangata su una notizia così grave prima di buttarla in pasto all'opinione pubblica non è curioso non trovate che sia curioso cioè l'obiettivo è dare una notizia verificarla valutare se sia vera oppure no fare il proprio lavoro o l'obiettivo è buttiamo fango alla cieca sulla meloni perché le persone libere ci danno fastidio perché magari la crescita di fratelli d'italia può essere fastidiosa perché comunque c'è una forza di opposizione che potrebbe diciamo così essere distonica rispetto al racconto del mainstream non trovate che sia un po strano che questa notizia relativa a fatti questa non notizia questa rivelazione relativa a fatti di otto anni fa 2013 perché voglio dire a giustizia in italia è lenta ma stiamo ancora alle rivelazioni di otto anni fa e non è curioso che questa notizia relativa questa rivelazione relativa a otto anni fa esca fuori proprio adesso che appunto fratelli d'italia che è l'unico partito di opposizione che tutti i sondaggi lo danno in crescita ieri c'era un sondaggio che dava fratelli d'italia al 18,9 per cento a 0,2 per cento dal partito democratico perché francamente a me pare tutto questo abbastanza curioso e guardate mi pare ancora più curioso perché mi sono ricordata stamattina di fronte a questo fatto che in pratica io verrei accusata di frode elettorale è la stessa accusa che è stata mossa a Aung San Suu Kyi in Myanmar dove c'è stato un colpo di stato l'hanno presa l'hanno accusata di frode fiscale l'hanno sbattuta in galera aveva vinto le elezioni perché i regimi fanno così i regimi fanno così l'hanno accusata di frode fiscale e anche di detenzione illegale di due walkie talkie per questa mattina sono andata a rovistare nelle mie cose per vedere se per caso avessi due walkie talkie dentro casa che non si sa mai con la differenza che però Aung San Suu Kyi aveva vinto le elezioni invece io nel 2013 ho preso l'1,95 con fratelli d'italia quindi ho pure spesi male eventualmente sti soldi no i regimi fanno così il punto è che in teoria noi non siamo in un regime in teoria fratelli d'italia è una democrazia e fratelli d'italia opera all'interno di una democrazia e vedere metodi che ricordano il mianmar non non promette bene per la nostra democrazia allora voglio essere chiara fratelli d'italia continuerà a fare le sue battaglie che sono battaglie di libertà e giustizia senza paura con ancora maggiore forza di ieri perché le persone che non fanno del male non devono avere paura di chi fa del male potete inventarvi quello che volete potete gettare fango potete tentare di screditarci potete tentare di tapparci la bocca potete venirci a prendere casa per casa e sbatterci in galera continueremo a essere una forza politica che si batte per la libertà e per la giustizia perché chi non fa del male non ha paura noi non ci facciamo intimidire deve essere chiaro l'italia è una democrazia ci sono delle regole e quelle regole vanno rispettate e noi ci battiamo per questo contro chiunque pensi che la libertà debba essere pagata con un costo altissimo lo sappiamo l'abbiamo sempre saputo in italia le persone libere non piacciono in italia le persone non ricattabili non piacciono in italia piacciono le persone serve e piacciono quelli che si possono ricattare non è il caso nostro lo sapevamo quando abbiamo scelto di essere persone libere non abbiamo paura perché non abbiamo fatto del male fatevene una ragione noi continueremo ad andare avanti e non ci facciamo intimidire annuncio querela ovviamente verso chiunque dica falsità sul mio conto e verso chiunque dovesse utilizzare cose false per tentare discreditarmi vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana